Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori, buon inizio settimana a tutti voi. Ben arrivati anche i turisti che cominciano la settimana e la trascorreranno qui nella riviera adriatica. Cominciamo con la rassegna stampa, questa è un'occhiata ai giornali che diamo tutte le mattine alle 7 e mezzo in diretta, il Corriere Adriatico e il resto del carino sono i due quotidiani che prendiamo e mettiamo nel nostro touchscreen tutte le mattine, ma diamo un'occhiata anche al santo del giorno, lo facciamo subito e poi al tempo. Oggi è un santo che ha dato molto alla Chiesa, soprattutto ai tempi di Gregorio VII, perché è uno dei protagonisti della riforma della Chiesa al tempo di Gregorio VII, monacque nei pressi di Asti tra il 1045 e il 1049. Il sole è sorto alle 5.41 e tramonterà alle 20.47, vediamo subito il tempo per oggi, avremo cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento e vedete il sole che splende lungo tutta la costa, così come più o meno avverrà anche nella giornata di domani, martedì 19, le temperature continueranno a salire, tornerà ad essere caldo fino ad arrivare ad un'altra ondata di caldo che arriverà nei prossimi giorni. I venti sono a regime di brezza con intensità massima di brezza tesa, quindi ci sarà un po' di vento nella giornata di martedì. Poi l'alta pressione continuerà a garantire belle giornate per il resto della settimana, poi per il fine settimana invece è atteso un peggioramento, ma questo è tutto da confermare e da vedere. Allora ieri giornata di sole, c'era preoccupazione per i tanti turisti che solitamente vanno al mare in spiaggia, Trafano e Pesaro e che parcheggiano, anche perché non ci sono alternative, sulla Stratale 16, c'era apprensione da parte degli automobilisti ma anche dei bagnini, bagnini che chiaramente con i turisti e non solo ci campano. E allora vediamo com'è andata e lo facciamo con il resto del carino. Cominciamo da qui, strage di multe al mare, sono 20 le persone, gli automobilisti castigati, gli agenti della Municipale di Fano in azione su tutto il litorale. Hanno pattugliato tutto il litorale, non solo dalle spiagge a sud di Torrette, qui siamo chiaramente, stiamo parlando di un altro tratto che comunque è sempre abbastanza impegnativo a livello di sicurezza, mentre la fotografia ci riporta un'immagine della Stratale come si presentava ieri con le auto parcheggiate comunque sulla carreggiata. C'è il racconto un po' di come è andata questa giornata un po' campale per gli automobilisti ma immagino anche per i vigili che non sia stata insomma una cosa semplicissima. Un anno dopo la fiaccolata per Ismaele, lo vedete nella fotografia, il ragazzino di 17 anni che è stato ucciso barbaramente un anno fa nella pineta della chiesa di San Martino in Selvanera, siamo nei pressi di Sant'Angelo in Vado. Dicevo una fiaccolata per Ismaele, canteremo le sue canzoni. È in programma questa sera con partenza alle 20.45 da San Michele Arcangelo, un corteo che si snoderà per le vede del centro storico, il ricordo della giovane vita spezzata appunto un anno fa. Questa è la pagina di Fano e Urbino ma sotto ancora la cronaca shock da Pecchio, Serravalle di Carda, siamo ai piedi del Monte Nerone, una maestra che è stata ritrovata morta nel suo letto, la maestra perfetta, la vedete in questa immagine, aveva 56 anni, insegnava alla scuola materna. La morte per cause naturali è avvenuta nella giornata di ieri. La Coppa Davis è andata male per l'Italia, però insomma l'organizzatore dice io ci ho rimesso 100.000 euro ma sto già pensando qui a Pesaro di portare la Fed Cup a De Filippis, l'organizzatore della Coppa fa il bilancio e svela i suoi progetti. Si parla anche degli incassi, sperava di incassare almeno 400.000 euro, invece non sono stati superati i 180. Nei tre giorni registrati 13.500 paganti e i biglietti andati alla grande sono state le gradinate a 18 euro e le tribune laterali a 36 euro. De Filippis lo vedete in questa fotografia mentre dice voglio tornare sia a Pesaro ma voglio farlo fuori stagione, sto pensando alla Fed Cup che c'è un turno ad aprile, scelto Pesaro perché pensavamo anche ai turisti ma abbiamo visto che è difficile distrarli dal mare. Interessante questa analisi quando il turista paga, insomma viene qua per stare un po' al mare, insomma tennis conta poco. rischio svendita, parliamo del caso Banca Marche, rischio svendita al Good Bank, colpo di scena in campo solo tre fondi americani, offerto un quarto della valutazione di novembre, questo è l'altro articolo che troverete sul giornale di questa mattina. Il sole non console i bagnini, la spiaggia è sparita, il bilancio sconfortante del maltempo dei giorni scorsi, tolte decine di ombrelloni, parla per esempio Riccardo Ridolfi che dice servono nuove strutture frangiflutti o spostarle, queste che ci sono ormai sono vecchie e quindi bisogna fare qualcosa. La pagina principale del resto del Carlino, ve la faccio vedere anche se ormai le notizie le abbiamo già date i titoli, grazie lo stesso, questa è la fotografia che si riferisce al sipario che è calato sulla Coppa Davis, l'Italia sconfitta, l'organizzatore comunque dicevamo vuole tornare a Pesaro, questa è una foto, la foto dei sostenitori dell'Italia. Botte da Orbi alla compagna incinta, due anni condannato ad un pesarese di 48 anni, per lui dice insomma per noi erano, per me anzi erano normali litigi. La pagina del Corriere Adriatico, eccola qui, ospedale unico, l'azienda può recuperare 12 milioni, è la notizia d'apertura elaborata all'analisi costi e benefici ma i comitati si mobilitano contro il progetto. A fine giornata sono state levate oltre 40 contravvenzioni, incubo multe, bagnanti in subuglio, sosta sotto monte caos, il presidio della polizia innesca fibrillazione in spiagge, insomma prendere il sole col pensiero che qualcuno, oppure col pensiero che dove è parcheggiato ci possano essere i vigili, in agguato per più parti la multa su un parabrezza, insomma non è proprio il massimo della serenità, insomma uno va al mare, sta un po' tranquillo, deve stare col patema d'animo. Però questo è quello che è successo ieri, ci sono problemi di sicurezza, l'abbiamo già ricordato più volte. Ospedale unico, ecco i costi e i benefici, siamo a pagina 2 e 3 del Corriere Adriatico, sono le due notizie più importanti, c'è anche il grafico di centimetri che può darvi e sintetizzare schematicamente un po' quelli che sono appunto i costi e i ricavi di questa struttura importante per le due città Pesaro e Fano. Previsto un forte aumento di prestazioni di alta specialità, l'accertamento dei servizi ridurrà i costi per 5 milioni di euro. L'altra pagina sull'ospedale è un'intervista, un'intervista a Marta Ruggeri, la consigliera di Fano 5 Stelle, pazienti non numeri, meglio presidi in rete, il movimento referendario contesta la riforma della Regione Marche. Poi sempre dal Corriere Adriatico, apriamo la pagina di Fano, saldi e turisti, due flop, il commercio è in crisi, è stata fin qui nera per gli esercenti del centro cittadino, nel cuore della città i negozianti ormai sono sempre di meno. Una riforma da bocciare da Boschi, il ministro che l'altro giorno era a Fano, solo i fedelissimi, Marta Costantini, di possibile all'attacco risparmi e semplificazioni nel Mirino. La pagina di Valle del Cesano, motociclista ventenne cade in gara, soccorso nelle ambulanze a Cavallara, l'astronoscente del team Scotcia di Fermo, è stato trasportato a Torrette in codice rosso, lo vedete Nicola Recchia in azione con la Kawasaki nel team Scotcia di Fermo, in uno scatto di action photo gallery. Si ribalta invece con l'auto nel cuore della Movida, ecco il risultato, la macchina copovolta, è successo a Morotta l'altra sera sul lungomare Cristoforo Colombo, e l'automobilista, si tratta di un giovane marottese, è uscito praticamente in colume dall'auto. Da Senigallia il lungomare è chiuso alle auto, sulla statale il traffico va in tilt e addirittura i turisti hanno dovuto raggiungere a piedi gli alberghi con i bagagli al seguito. È accaduto qualcosa di scandaloso in questo fine settimana, dice Giacomo Cicconi Massi, che è segretario di Confartigianato. Sotto invece il sindaco Mangialardi che elogia la piazza appena restaurata, il restyling, una nuova immagine, vedete, di piazza Garibaldi a Senigallia, bellissima. Piazza Garibaldi dice il sindaco regina d'Europa. Le altre due pagine del Corriere di Senigallia arrivano in vacanza, ma la casa non c'è, non esiste. Si allunga la serie di truffa ai turisti, l'ultimo era giro ad una famiglia umbre che aveva versato 200 euro di caparra, si è presentata nella via che gli era stato detto, gli era stata indicata, però purtroppo il numero civico non esisteva. Ed è la seconda coppia che è stata truffata nel giro di poche settimane a Senigallia. E sempre dalla cronaca, purtroppo, della città che ha la spiaggia di Velluto arriva la notizia della morte di questa 29enne polacca. Qualcuno ricorderà forse questa notizia, ve l'abbiamo data sempre dalla rassegna stampa di qualche mese fa. Il 7 maggio, il 7 maggio quando era stata salvata questa donna, vedete così, solare, bionda, da un rogo nell'appartamento in cui viveva. Probabilmente questo rogo è scaturito dalla sigaretta che lei aveva accesa, si era addormentata sul divano e purtroppo il divano ha preso fuoco e lei è stata per due mesi al Grandi Ustionati, poi in un ospedale a Parma e poi purtroppo, a pochi giorni dal compleanno, perché avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 22 luglio, questa donna che vedete in questa immagine non ce l'ha fatta, il suo cuore si è fermato. È tutto per la rassegna stampa, grazie per averci seguito, ci vediamo questa sera alle 20.30 nel telegiornale, con il telegiornale Occhio alla Notizia. Buona giornata. Grazie a tutti.